ciao luca allora no niente io sono già qui e ti aspettavamo noi volevamo anche andare a bere un aperitivo si e no 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 adesso l'aperitivo ti aspettiamo a te amo si perché vuoi venire a fare l'aperitivo da solo in che bar scusi sa dov'è il bar valli lei dov'è il bar valli alla fine ah si 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 conosco un signore qui che adesso sa dov'è il bar valli va al bar valli no però mi faccio spiegare bene se mi può accompagnare si c'è anche no si ferma un attimo si ferma un po prima del bar valli si edigea no non lo so edigea lei che si si lo sa edigea va bene no ma io ma perché te non potevi venire là dove sto io che c'ho la sala giochi lì boh non mi potevi ciao si vuol parlare lei che non vuol parlare ma tanto si vengo quanto mancherà fino al cartellone azzurro non sono lì dove c'è l'interiota cazzo si ma qui così adesso boh no niente vabbè si vengo vengo va bene ciao come vado 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 ciao ciao grazie aspetta FEGE chi quello che va lì ha detto che viene tra oh boh tra poco ciao Loera, grazie